Ah che bello, sono tornato a Bologna da ieri, sono andato al cinema, siamo qua a casa per girare dei video, con un buon microfono, uno sfondo minimo che si possa vedere quello che faccio, quindi sono contento di tornare qua, io e il mio amico ventilatore alle spalle, sempre fedele, più di qualunque amore. Come vi avevo promesso ieri nel video di Trap, vi ho detto, porterò un video domani analisi perché per me è Trap di Shyamalan, però vi invito a comunque recuperare quella recensione Sfogo, è un film orribile e per me chiude la carriera di Shyamalan come sceneggiatore, non come regista, perché è un film scritto malissimo. E ora andiamo a vedere lo spoiler, analisi, passaggio per passaggio, sulla Tama, non tanto sul film che ho detto, che è comunque buono, fatto abbastanza bene, quindi ci può stare. Va bene? Detto ciò, prima di iniziare vi invito a scrivervi, lo sapete, continuiamo ai 1500, manca pochissimo, sta iniziando il Festival di Venezia. Questo è che cosa vuol dire? Io che vi porto i video, ma per qualunque livello di abbonamento, anche quello più basso, due caffè al mese, avrete la recensione il giorno stesso in cui io la vedrò. Se no, due giorni dopo, un giorno dopo. Quindi abbonatevi a qualunque livello, più alti vantaggi che ci sono per ogni livello. Dateci un'occhiata, supportatemi, descrizione, un like, una condivisione, un commentino, fatemi anche solo sapere cosa, pensate di quello che ho detto. Quindi, trap, analisi, spoiler. Siamo pronti? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Incominciamo il film, le prime scene parlano, ci presenta questi due personaggi, aspetta che leggo i nomi qua, Cooper e la figlia Riley, stando in macchina, si capisce se stanno andando al concerto, si vede questo padre amorevole. Ah, una cosa voglio dirla, senza il trailer sarebbe stato molto più intrigante il film, perché avresti lasciato il mistero, invece dicendone il trailer che lui è un serial killer. Ecco, i primi dieci minuti del film sono un po', anche quindici, un po' inutili. Nel senso che tu vai lì e sai, vabbè, facciamo iniziare il film, cioè quando poi Cooper chiederà all'inserviente Black cosa succede, no? E lui dirà, questo inserviente che vende le magliette, dirà, ah, c'è una trappola che ha organizzato la polizia per il macellario. Ecco, il film inizia con un quarto d'ora di lag, perché nel trailer, io non l'avrei messo nel trailer, avrei cercato un modo più accattivante, vedere la polizia che cerca qualcuno, e boh, non lo so, vabbè, comunque, aspettate, farò un discorso qua, perché io considero il primo tempo molto bello, che funziona, il secondo un disastro. Nel primo tempo è stato accusato il film, giustamente direi, di coincidenze, di forzature. Andiamo a vedere se, secondo me, siano vere o meno. La prima forzatura è qualcuno dice, ma tu vedi che c'è la polizia, sei Cooper, no? Sei il killer. Sai che c'è la polizia davanti, tu la vedi, entri lo stesso. Non è una forzatura e neanche un problema questo. Tu hai peso il biglietto per tua figlia che ci vuole andare e tu non sai perché la polizia è lì. Questo è un controllo, visto che ci sono 50.000 persone, un altro po', ci può stare. Quindi questa cosa non è una forzatura, anzi, lui si rende conto che questo è buono per le persone oggi nel primo tempo, perché lo è attento e intelligente, cosa che ci tornerà utile successivamente. Lui entra, va bene, sta con la figlia e va quindi all'interno possiamo dire che inizia il film. Lei, insomma, la figlia Riley, vuole comprare questa magliettina. C'è una un po' snobbina che fa, ma l'ho vista prima io? E c'è l'ultima maglietta small e il tipo fa, ma tu sei un bravo guaglione, torna fra dieci minuti perché ti do una maglietta gratis, essenzialmente. Torna fra dieci minuti perché sono in magazzino. Ok, qua incontra l'amica, la madre dell'amica della figlia, è un gioco di parole, scioglilingo, perché hanno litigato, Riley ha litigato con questo gruppo di ragazze snob, quindi ci sono questi due momenti ansiogeni quando poi Cooper incontrerà la donna, che possono servire per darci il brivido di dire dai 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 che non lo vede nessuno e poi arriva a stare, può funzionare, qua per me va benissimo, funziona l'attenzione nel film. Vabbè, qua incontra la prima volta la tipa, serve anche per fare un po' di esplorazione dei personaggi. Comunque il nostro Gary, no perché Gary Cooper, perché il nostro Cooper comunque si preoccupa per la figlia, un padre amorevole, questo si vede, è un giocherellone, quindi ci può stare, no? Serve per la seconda parte, dovrebbe servire almeno per la seconda parte, no? Vabbè, all'interno fin quando lui torna per la maglietta, no? Aspettate, lui scopre prima della tappa della polizia, perché il nero gliela dice, poi quando torna per la maglietta inizia il gioco, perché lui sta cercando di capire, di esplorare il territorio, come in un videogioco, come Hitman, no? Il video gioco Hitman, non tanto il film di Linklater, e funziona, esplora, non lo dico qua, c'è la scena delle scale, dove spinge in modo assurdo una che stava lì sulle scale per vedere che cosa fa la polizia. Qua voglio fare un discorso, ah, vabbè, sulla scena, occhio all'horror, che è un canale YouTube, fra, ha detto, è un po' eccessiva, è girata male, si, forse si poteva dare un po' più di montaggio, un po' più di inquadrature, un po' più, forse si, ma è un problema minore, si, forse non è la scena dell'anno, ma, tutto sommato, è utile per farci capire che questo personaggio è cattivo fino in fondo, come vedremo dopo, quindi non è una edulcorazione del personaggio e poi diventa un Bao Ion, perché non è così, quindi funziona la cosa. Quindi lui ha scoperto che c'è la polizia, che lo vuole prendere, perché questo Black è uno molto, mi dire, vivace, ci può stare perché ha visto che è una brava persona, con la figlia, uno umile, ci può stare che ci caschi. È un sempliciotto, a me non ha dato fastidio. All'inizio mi dava un po' da riflettere il fatto che questo Black sapesse tutte queste cose, poi si dice che tutti gli agenti e tutti quelli che ci lavorano dentro sanno e c'è una parola d'ordine, come poi vedremo. Ecco lì, ecco, forse il problema di questa prima parte è che la polizia non è stata molto brava, nel senso, come l'avrei organizzata io? Se tu sai che c'è un serial killer molto pericoloso e astuto, non devi farti vedere in questo modo, cioè tu devi far sì di chiudere tutte le uscite, ma tutte le uscite, e aspetti fuori le persone, perché se tu metti tutte quelle persone all'interno del serial killer, come succede nel film, si insospettisce. Non dovresti neanche avvertire chi ci lavora dentro della cosa. Tanne alcune persone in posti strategici, 4, 5, 6, 10 persone, tu aspetti le persone fuori, dopo il concerto le fermi e come si vede, perché sono delle immagini fra virgolette delle descrizioni dell'assassino, come il tatuaggio a forma di coniglio, qua sul, non mi ricordo, sul braccio, insomma, sta parte, e lo fermi. Invece, così, ti dirò attenzione, troppe guardie, troppi poliziotti, gente col mitra a un concerto, siamo in America, va bene, ma tutto a un limite, quindi questo è un po' la forzatura che si deve accettare nel primo tempo, ma tutto questo funziona, perché andiamo qua. Il black, quello che vende le magliette, fa vieni con me, dai, perché lui, Josh il napoletano, come lo chiamo io, perché è sempre disponibile, sembra un tale nei videogiochi, noi abbiamo sempre queste storie dove devi aiutare tutti per avere i favori, essenzialmente, è un po' un videogioco il primo tempo, quindi aiuta tutti, e quindi Josh il napoletano aiuta, e mentre è distratto il nostro tale, gli ruba il pass, funziona, e qua ci sono storie, perché vuoi anche un po' sapere chi è questo macellaio, visto che sai che è lui, il film te lo spoilerà, è un punto di inizio questo, perché si vede lui che sul telefono sta registrando il suo prigioniero, che cosa fa, e lì sempre con l'app, ok, quindi, poi non lo so se questa cosa è vincente, io non l'avrei messa nel trailer, e l'avrei tenuta nel film, non lo so, da un certo punto in poi, vabbè, ma questa è un'altra storia, seguiamo quella che è l'idea principale di Shyamalan, quindi sappiamo che lui è il killer, prende il passo e da lì, cerca di andare un po' dappertutto, poi si è detto, beh, però le telecamere, però si vede che lui è molto attento dove va e dove non va, è pur vero che la regia di Shyamalan non si sofferma troppo nell'inquadrare i punti alti dei corridoi, però noi prendiamo come punto di riferimento il fatto che lui ce l'abbia fatta, perché è andato nei posti dove non ci sono quelle telecamere, dove non può essere visto, poi in mezzo alla folla si ci confonde, come anche nel finale di Unbreakable, che lui sparisce nella folla, quindi mi piace, mi piace, lui usa il pass e essenzialmente va dove c'è questo gruppo di poliziotti, mi è sembrato un po' strano il fatto che lui si fermi ad ascoltare, io avrei fatto una cosa un po' più nascosto, nel singolo magari un po' più indietro, lui è fermo così, Josh ascolta, poi quando arrivano dei poliziotti dietro si mette il badge qui, dice al tale, ah il caffè vuolo zucchero, vabbè, che ci sta, è un po' spiegone, però ci può stare, ci può stare, nel senso deve accettare un po' queste dinamiche, a me piace, è molto videogioco, capito, investigativo, mi piace, ci sta, ci sta, poi c'è la questione, ah e qua prende la riche trasmittente, che sarà utile perché ascolterà, lui è bravo Josh, Josh il napoletano perché riesce a usarla quando non può essere visto, perché se avessero facile, errato, che lui va in giro sempre con sto filo che gli esce, visto le sale camere, avrebbero subito capito che era lui, no? E ci funziona, quindi lui ascolta, lui ascolta, mentre la figlia gli dice, oh ma che c'hai papà, stai sempre in giro, ma lui avrebbe potuto dire alla figlia, sa, guarda che a me la canzone non interessa tanto, vado fuori, vado a fumare una sigaretta, allora, funziona, lui sta sempre in giro, scopre robe, c'è la scena delle bottiglie dell'olio, che non ho capito come avviene, nel senso, davanti a tutte quelle persone riesce a sgattaiolare, dove fanno le patatine, mette dell'olio, quindi che esploda per farsi un giro essenzialmente, questa cosa è un po' strana, però ruba il grembiule di chi stava cucinando, dentro c'è anche il badge identificativo, che poi gli servirà perché lui va sul tetto per vedere se può fuggire dal tetto, funziona, lui dice, beh è un po' forzato che questi agenti parlino con tutti del piano, in realtà non è così sbagliato nel senso, quando lui dà la parola d'ordine e mostra il badge, questi poliziotti pensano, vabbè è uno di noi, non è il serial killer, perché li avranno controllati, presumo, quelli che lavorano lì nello staff, ok, perché ha senso, e quindi possiamo dirlo a chi è la signora che ha il comando, è la profiler, non è che svela il piano, ci può stare, scende, scende e scopre, ed è qua interessante perché non è una critica, anzi, l'idea delle canzoni che vengono inserite hanno un senso, oltre per far vedere che brava la figlia di Shyamalan a cantare è anche molto bellina, che va in palestra, però servono per farti capire che forse c'è una via di fuga dal backstage, molto intrigante, è un po', non so, Josh il napoletano Cooper, e fa la figlia, no io voglio sentire il concerto, ma che stai di papà, ma sei scemo, un po' scemo papà oggi, quindi è un po' così, un po' così, e funziona, poi si dirà che la tipa è furba, perché chiunque voglia entrare nel backstage verrà preso e interrogato, ah intanto non vi ho detto che le persone degli uomini vengono presi perché lui ascolta dalla ricetta smittente, 4-5 tipi di uomini diversi che sono stati visti su un luogo del delitto, quindi fra cui c'è lui, con il tatuaggio, lui se lo copre con il, si chiama, con il braccialetto quello dei locali, quello che se lo metti, no? Ok, ci può stare, qua funziona, bello, funziona tantissimo, lui riesce, scusa, parla con Shyamalan, vero proprio lui Shyamalan, M Notte, che fa una parte nel film. Qua il nostro regista si è perso una grande occasione di fare del metacinema, perché avrebbe potuto dire che al posto di Lady Raven, quella fosse davvero la figlia di M Not Shyamalan, che avrà un nome d'arte, Saleka, e che lui era davvero il grande regista Shyamalan, che stava pensando di fare un film su un tale che è intrappolato dalla polizia in un concerto, un serial killer, e farsi due risate su questo, dire, ah, ma sai che stasera sarebbe interessante, sarebbe stato bello, e dice questa minchiata bellissima della leucemia, perché Joe Shyamalan è bravissimo in questo ruolo, e fa, vabbè, dai, ti facciamo fare il balletto con la cantante sul palco, no? Incredibile, così da avvicinarsi al backstage. Era qui, molto brevemente, fanno il balletto, la figlia è contenta, lui vede cose, aiuta persone per infiltrarsi, per capire se ne può andare, e capisce che non può scappare, ok? Prima di arrivare alla fine del primo tempo giusto, giusto, e da qua inizia il declino e lo schifo del film, voglio fare questo ragionamento, lui è stato preso dal disagio e dall'ansia, ci può stare, però a me sembra strano, cioè questi tali, anche se dopo verrà un po' retconnata sta cosa, vabbè, ma questi poliziotti non hanno davvero delle prove contro di lui, non sanno nemmeno chi è davvero, sì, ci può essere il tatuaggio sul braccio, ma non hanno delle prove vere, tranne che sarà lì sul posto, quindi, teoricamente, stare seduto e aspettare di farsi interrogare e farsi rilasciare per mancanza di prove, starsene bello tranquillo, forse sarebbe stata la cosa migliore. Tu non scappi, stai lì con tua figlia, anzi, non crei questi sospetti, no? E qua il film, secondo me, pecca, perché in tutto il secondo tempo c'è la parte sulla figlia di Shyamalan che deve recitare, perché è palese che sia stato fatto per questo, avrei cercato sì che, non lo so, si rimanesse là dentro con il trappolone della tipa che, della profiler, che finge di farlo scappare, fra virgolette, lo aiuta a farlo scappare, una cosa che mi aveva colpito è il fatto che la tipa, l'assistente della star, Lady Raven, che parla con la bambina, sei pronta per ballare, eccetera, dica così molto facilmente, o sì potete uscire anche dal backstage, che è strano, visto che si è sentito dire che tutte le uscite sarebbero state sigillate, cioè sigillate, piantonate dai poliziotti, cosa che è vera in realtà, anche quando sono nel backstage, però, come l'ha detto, sembrava un modo per spingere il nostro Gary, perché Gary, Gary Cooper, il nostro Cooper, a fare una mossa sbagliata, avrei gradito questo modo di fare, no? Invece no, costa polizia che all'interno è fenomenale, non fa passare nessuno, quando in realtà fa passare qualcuno, chi è quella star? E non mi funziona. Andiamo al punto critico del film, da qui il film che era bello diventa una merda, ve lo dico, non funziona niente. Josh, il nostro Josh, super attento, decide, e dai, il colore, decide, diciamo così, che l'unico modo è costringere Lady Raven a portarli fuori, anche se è stano, perché la polizia dovrebbe controllare tutti gli uomini, tutti gli uomini, no? Le donne, i bambini, no, ma tutti gli uomini. Riesce in qualche modo a uscire con loro, con la limousine, e qua c'è un errore, perché io mi sono chiesto, fino a primo tempo, può andare in due modi, se fosse una scrittura sensata, o meglio, uno solo, perché se lo scrivi bene, uno solo, se no va a merda, infatti va a merda. Qual è quello sensato? Cooper vuole uscire? Usa Lady Raven perché le dice, guarda, io tengo sotto scacco una persona, tu ci fai uscire e non dici niente, poi noi ce ne andiamo, ok? Però la questione è questa, Lady Raven sa chi sei, se è stato fotografato, registrato nel concerto, durante il concerto, sanno chi sei, quindi se questa rimane viva in un modo o nell'altro, lo dirà alla polizia, e tu sei fottuto, o diventi un fuggiasco, oppure ti prendono, non c'è tanta scelta, quindi la devi ammazzare. Io ho pensato che la ammazzasse, mi ha fatto notare il mio amico, interessante, Shyamalan nel primo tempo ti mette come lei abbia bisogno del, si chiama, del respiratore, quello del, diciamo, nei film degli anni 80 degli sfigati che devono sempre usare il respiratore, come si chiama quello per, non mi viene il tempo, comunque, sto coso che tu te lo inali e respiri meglio, adesso non mi viene, ok? Ho pensato, ma anche lui, anzi lui prima di me, forse il copricenare era quello, ucciderla facendolo sembrare un incidente, così da poter poi lasciare la strada, lasciare e andarsene. Ma anche là, sia che l'avesse uccisa normalmente, nonostante ci fosse davanti l'autista, quindi doveva sembrare davvero un incidente a questo punto, perché se lo fai con la violenza c'è un problema. Tu sei l'unico uomo uscito da lì e guarda un po' la stare morta. Se non sei l'assassino, sei un gran coglione. E sanno chi sei, ce lo sanno proprio. Il film qua deraglia completamente, perché non solo lei è viva, Lady Raven, ma fa una cosa stupidissima, perché loro due si fanno lasciare Cooper e la figlia a un angolo della strada. Ma è stupida questa cosa, perché Lady Raven può andare a parlare con la polizia, uno può dire, beh, però la minaccia di Cooper era quella di uccidere il tipo, ma può uccidere il tipo in qualunque momento. E nel momento in cui loro si dividono, Raven e Cooper, è uguale la questione, cioè come fai a fidarti di un serial killer da parte di Raven e come fai a fidarti di una che forse andrà dalla polizia da parte di Cooper invece? Non ha senso. Dovete stare insieme, se no uno non può controllare l'altro. E c'è sta trovata assurda, dove Lady Raven fa, però vengo a casa vostra. E il mio amico mi ha detto, eh ma lo fa per controllare Cooper. Se faccio meno questa cosa che ha detto, perché volevo uccidere quello che aveva catturato, quel monoseno di carbonio, perché lui è pompiere, le saste cose, ok. Ma io dico sempre, se lui ha sempre il suo cellulare in mano, lo può fare in qualunque momento, sia che ci sia Lady Raven, come non ci sia, non solo, Lady Raven rischia la sua vita. È vero che il piano è, vado dalla sua famiglia, quindi non dovrebbe fare atti folli davanti alla sua famiglia, però valla a sapere. Cioè sta qua, non solo ha rischiato di morire, ma ha messo in pericolo anche la vita di altre persone, perché un serial killer è un serial killer, cioè non è che c'è sua moglie o i suoi figli si ferma, ma che? Quindi non ha senso. L'unica cosa che si poteva fare è che quando scendo dalla limousine lei avrebbe dovuto dire sottovoce al suo uomo, l'autista, colpiscilo alle spalle appena puoi perché è un serial killer. Invece no, lei entra in casa, fa tutta la scenetta, posso suonare il piano, eccetera, eccetera. E poi gli ruba il cellulare con astuzia, devo dire, fa dai ci facciamo una foto e se ne va con la bambina e va in bagno, qua non ha senso. Secondo punto grosso così con una X proprio, non ha senso. Lei al cellulare non chiama la polizia, non chiama la polizia. Fa sta live Instagram dove dice cercate quest'uomo dopo che ha parlato con lui, no? Ma non ha senso perché intanto Cooper scoperto avrebbe dovuto sbatterla giù con la porta a calcio, a pugni, con un martello. Io stavo aspettando la scena di Shining Wayne quando già ero pronto. Invece no, la fa chiamare come se niente fosse, come se fosse una roba normale e lei si la chiama alla polizia, ma è tutto sballato perché lei rischia la vita poi con un serial killer che ha perso tutto perché è stato smascherato. Quindi lei dovrebbe essere morta, deve dire Even. Non ha senso, non ha senso. O che arriva la polizia, lui scappa con un tunnel sotto la casa. Non è questo il problema. Sendo che sono tantissimi. Quello che mi chiedo è questo. Parte successiva. La fuga è in macchina. L'auto di Lady Raven, la limo di Lady Raven. Ora io ci sto che lui possa essere fuggito ma che non si faccia più vedere. Perché la prima regola è piantonare la casa degli assassini dove c'è la famiglia. Perché tornano sicuramente perché sono fessi. Torna pure lui. Ma mi spiegate come ha fatto a entrare con tutti questi boliziotti. Perché non si vede in realtà sta scena. C'è lo stacco successivo di... Aspettate. Aspettate. Sulla limo ci sono la famiglia di Cooper e lei Lady Raven. Quindi la famiglia di Cooper è stata portata al sicuro. Che poi non è vero perché la moglie torna lì. Vabbè. Lady Raven dovrebbe essere anche lei al sicuro in un bunker segreto. In una stanza segreta. Fin quando non prendono il serial killer. Invece se ne sta bella tranquilla con l'autista. Vicino alla casa. E vedo sta scena ridicola di Cooper che sale in macchina. Ma come? Ma se la polizia nel primo tempo è stata bravissima, bellissima, perché chiudiamo le uscite, profiler, telecamere e hanno 974 uomini. Ora sono in cinque. Cinque poliziotti. Ma chi cazzo è? Va in macchina. Hartnett che fa le faccette. Bravo. Però le faccette poi qua non servono più perché sei solo un coglione. Il killer è un coglione. Fuga dalla limo e fa Batman. Perché lei si lancia fuori giustamente e dice ah lui è il serial killer e il macellaio arriva alla polizia. E lui fa Batman perché sparano all'auto. Però lui è in strada tutto oscuro così. Ma cosa? Come? Ma dove? Ma quando? Ma che è sta merda? Shyamalan. Hanno usato la donna comesca, la moglie. Perché sanno che tornerà a Cooper? Benissimo. Ma la polizia è idiota. Perché permettono a Cooper di parlare con la moglie? Perché serve allo spettatore essenzialmente. Perché nella vita vera appena Cooper avrebbe messo, avrebbe, avesse messo un piede in casa l'avrebbero fermato. Perché dopo ci sono i poliziotti che arrivano col teaser. Ma dopo? Cioè loro permettono a Cooper di parlare con la moglie con un coltello in mano. Ma di solito c'è un cecchino che da lontano, appena avere qualcosa, si spara un colpo e si è morto. Oppure se lo vogliono catturare vivo, sparano alla gamba. E arrivano poi i poliziotti che lo fermano. Ovunque tutta sta storia per creare un nuovo buco di trama. Perché chi ha messo quel mezzo scontrino dove si diceva che il killer sarebbe andato al concerto? La moglie. Che aveva capito tutto. Come? Perché prima dice che pensava fosse una storiella che il marito aveva con le altre perché non tornava a casa sempre, queste volte di notte, ha capito che era il macellaio. Quindi voleva farlo catturare al concerto. Quindi aveva messo quel mezzo scontrino in quella casa per farlo trovare. Però non ha detta alla polizia che forse sospettava di suo marito perché non lo sapeva. Ma in questi casi non si fa così. Ti prendi coraggio, vai dalla polizia e dici forse mio marito è il macellaio. Accertatevene perché se tu hai il dubbio che tuo marito sia un macellaio e lo metti con tua figlia in mezzo a tante persone poteste avere sulla coscienza altri delitti come quello che avviene poi al poliziotto che viene colpito negli occhi insomma. Invece non sta moglie e fa il discorsone. Questo serve per lo spettatore ma non ha senso sulla trama, non ha impatto sulla trama. Perché è sbagliato. Cioè questo sta col coltello mezzo nudo, non ho capito perché. E finalmente arrivano gli SWAT dopo un certo momento. Non prima della visione della minchia. Perché Shyamalan voleva dare quel tocco di è pazzo, è pazzo, è pazzo. E c'è il fantasma della madre che gli dice ora sei pronto. E fa ma io ho fatto tutto bene mamma. Che è lo psycho dei poveri? Ma che sta merda? Ovviamente viene fermato. Nonostante quattro tiserate uccide uno perché gli mette le dita a uno dei poliziotti e finalmente lo ferma. E non è finita. In realtà sta scena è anche carina perché lui sfrutta il sentimentalismo che tutti hanno verso questo pietismo che hanno verso di lui per sistemare la bicicletta perché lui è uno fissato con l'ordine. E quindi in realtà sottrae dalla ruota della bicicletta questo pezzo di plastica con cui nell'ultima scena si toglierà le manette. Può funzionare ma anche lì. Tu poliziotta non puoi permettere che un serial killer che è stato preso, che è pazzo completamente, riabbracci sua figlia. Perché se in un momento di follia avesse ucciso la bambina il realismo è pari a zero in questo film. Perché la polizia prima è super tosta poi dopo sembrano quattro minchioni. Non fanno mai la cosa giusta. Sono sempre in cinque quando prima erano in 978 guardie armati di mitra. E qua non fanno niente. Poi sto fino all'aperto lui si libera e quindi che vuol dire? Vuol dire che appena uscirà cercherà di fuggire ma lo seccheranno oppure ce la farà fuggire. Almeno questo Shyamalan sceglilo. Fai sempre colpo di scena del colpo di scena del colpo di scena. Chiusura. Ragazzi per me il suo film è la fine della carriera di Shyamalan perché lui è bravo a girare e deve continuare a fare film ma come regista. Non deve più scrivere. Deve prendere progetti di altri e fare quello che gli dicono di fare. Cioè sta scena gira sta scena Shyamalan perché non si può guardare. Ormai lui è un meme vivente. Ha vissuto quei suoi momenti d'oro con 4-5 film riusciti col colpo di scena e da lì non si è più ripreso. Ha detto io sembravo fare questo farò sempre questo. E ha fatto film uno più brutto dell'altro. Le dici. Così dice vabbè ma stai esagerando. Prendiamo gli ultimi. Trappe è questo qua. Sono la porta. Brutto. Old. Brutto. Glass per me è orribile. Split è decente ma è uno dei più grandi sprechi della storia del cinema. E un giorno forse ve ne parlerò. Dei visite è carino il secondo tempo. After Earth inguardabile. L'ultimo odumento dell'aria inguardabile. Venne il giorno inguardabile. Lady in the water inguardabile. L'ultimo film bello davvero è The Village. Science è bello nonostante il finale sono d'accordo con Andrea Zamburlin. Quando vedi quei robi dici vabbè. Unbreakable bellissimo. Sesto senso un po' sopravvalutato ma comunque buon film. Quindi ha fatto tre quattro film di livello e gli altri sono da buttare nel cesso. Nonostante questo è un bravo regista. Vabbè. Ciao ragazzi. Non voglio sentire più parlare di Shyamalan. Spero che smetta davvero non ne posso più. I suoi film della minchia. Ciao. Ciao.